io non vuoi come per la luce 4.8 la battaglia inizierà ora abbiamo un tasso d'albergo a fk tazza d'armid vado io mi... eh per forza un solo c'è no deve salire utile commesura dai 10 secondi tazza d'armid e' un bel e' un po' si scegnava 3 1 avanti ma c'è un video solo non mandare non faccio da me mi hanno una cosa che aveva la torta è sempre dentro di me sul mio io ho un po' pensiamo siamo con uno che mi stavi o che mi stavi da siamo una zanzo senza il mito perché c'è svegli l'occhio erano oggi non c'è nessuno cazzo attenzione che giù non c'è nessuno ne sono 3 mito attento tasso occhio jackson occhio jackson occhio jackson no ma dove sei andato jackson no giocate super safe ok qui te rendi anche perchè sei solo il mito ah sono solo ok dimmi quando andai ma con quale precisione quel hit cazzo questo ragazzi e' la skill di scarlet vabbè ho missato uno su diecimila non e' un problema io c'ho problemi di latenza del gioco mi prendi click in ritardo mi prendi click in ritardo attento attento di 3t si attento di 3t si mi sa di 2 su 34 guarda come mi skillano sull'illusion ma la fanculo eh ragazzi come potete vedere qui c'ho la latenza alta e non si capisce un cazzo eeeh se lagga stai qui c'ho streaming se lagga no 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 lo streaming è solo il gioco per la luce prima non faccia così ogni tanto me lo fa anche ieri dai pur a me lo sta facendo lo sai è il server si avrà uno spy ragazzi ce ne ho 3 giu a cacchio come cazzo fanno essere 3 su e 3 giu io ce ne ho 3 giu raga scherzate proprio curatemi curatemi jack scudo scudo grande dai ma questi hook sbagliati però e' sbagliatissimo ma wetta ma wetta e' sbagliatissimo e' beh di queste cose non ti dovrebbero fare mentre urlata beh c'è ragione mura di indietro si chiama c'è un palco come vedete facciamo fatto perché no facciamoci il golemmo perchè venerdoti allora io il venamo non lo prendo ruotatemi ruotatemi via che mi tacco il golem qua ho fatto un rass 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 che non muori no jackson no jackson per una cosa non ti devi prendere lo stun del golem perchè veramente ma cosi non lo venisca no no fermo 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 fammi killare il magetto fammi sottotorre si voi potete vedere invece di giocare pensa a wispare eh ma perchè c'è il tipo che mi stava dicendo della partita ha detto che ti vengo da dormire e quindi quindi non si gioca qua ma che palle ma che esse cosa arriccio eh no vengo tra mezz'ora poi no sono andato a dormire mi vuole che sia definita la partita si ma con quale con quale criterio su di us mi ha fatto morire pazzo sono morto no 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 ah azzo no guarda come mo mi slida ok no mi è arrivata la frag addirittura per l'alleanza ora stavamo la frag addirittura era morto se non stavi fermo eh lo so ma non no che se stavi fermo che significa erano in tre è sbagliato a ingaggiare no e c'è rettissima a fianco a me mentre salivo tranquillo invigili no non c'è il coso non c'è il coso no non c'è il coso no non c'avevo mana fa un co non ingaggiare uter non ingaggiare becca 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 ma una manina qua no eh che sono da solo giro una vita ma dobbiamo stringere il culo raga c'è state 4 contro 3 e non riuscito a vincere ragazzi la tassa d'ar prendi il garden ben fatto il terrore sradicherà i porti del vostro nemico mi serve una mano a botto raga sto con poca vita e siamo due di loro abbiamo il garden mid batte dai vai ingaggiamo col garden fin di cane arrivo andare col garden ok arriva Tygus ok arriva Tygus arriva Tygus e te attacca ti osa e te attacca ti osa e te attacca ti osa occhio che potrebbero arrivare ad avere l'ulti occhio che potrebbero arrivare ad avere l'ulti ci vuole l'arte per non prenderle le trate di loro erano in qua erano in qua no prima prima erano di un pelino più alti per piedi no che mamma altro fertilizzante via via scappate scappate che ne ho con uno anche che non l'avevi distruggato perché non l'avevi distruggato perché non l'avevi distruggato io non l'avevi distruggato no non l'eroci morto ragazzi poco smorradin dai no 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 se sono di merda scappa qualche miseria buk vaedin coming ecco per quale principio qua questo l'ho peccata è importante lei ha pizzicato attenzione che Tygus sei lì non faennus eh e mi piace o è stato detto perché ora ci facciamo vabbè la fede per tempo che un pazzo è un po' c'è un po' quando pensavo di averne visto qualcuno in più dietro no siccome ci sono i seri che erano tipi basso avete recalato le euro ti stiamo recalando il recalato la bella che tra di sé ma io me lo farei questo perchè voi lo sono impegnati ormai il loro lo fanno possiamo solo andare al golem mod ragazzi se prendono se non lo finite in 5 secondi ah no l'avete ingaggiato è vero abbiamo finito lì vabbè comunque l'avete ingaggiato scompare se non l'ingaggiate la marina militare mannaggia mi ha stunnato l'azzurco su quel terreno se non moriva eh no eh no eh no ti prego no eh no ti prego no ti prego no ma non mi ha salvato l'illusion mi ha salvato l'illusion mi ha salvato l'illusion raga ma a focussarsi su questa cazzo di tirande non è meglio etc doppia uccisione ma stronz oh il trisemi raga manca un pelo di vita carnet meglio disfarsi facciamo quello tutto no dove andare al terror veramente ok se no c'è delle palla che stiamo facendo le torre in franze meno male che c'è il nostro hard in terror guarda ragazzi quanti danni si prende questo terror non è che il golem questa pure la valla avversaria non è che una buccia vuota vado da sopra in d ma scusami ma così lento è lato attack proprio di adv si è l'auto attack così lento però fa il 300% di dati in più sono qua sono qua ti vedo ragazzi mi mangio va mi mangio la stronza di tirande l'auco mannaggia la marina lol no perchè l'hai mangiato? ma anche io che non ho mangiato nessuno manchina è stato strobius lo shottavo se non lo mangiavi prendete quell'orbitale là mi chiede si penso penso lo risultato perchè peccati le spune le piscine io lo so sta moda di piccola stavamo andava ho avuto la c'è un cavolo quando ho niente da come dire non l'avete visto? non l'avete visto? fermi, fermi, vieni di qua vieni qua, vieni qua state fermi qua eh vabbè vergognate no però pushate uuuu ah ma facciamo dal lato bot vai, vai, vai sembra una bomba eh sì però non beccare all'improvviso che ci tremo eh no penso che non potessi entrare poi dal lato posto e fischotta vi butto la puttana in mezzo qua altro fertilizzante vedai ti perdono hai da su ci ho murati in fermi picchia ci ho murati in fermi picchia eh ci son morto proprio qui sono morto eh ha preso il il danno a campan物 per scontarmi una muttana, sto tipo no oggi mettiti in salvo in modo che sei full vabbè ce l'abbiamo fatto dai ma guarda questi porca miseria non mi fanno passare tipo dimagrire il vostro tempo il vostro tempo è stato distrutto ho capito capito è dritto e poi li sciottiamo siamo molto calmi qui infatti non devo ricordare che mi salvavo lo stesso non ci siamo no non pushate non pushiamo allora facciamoci i campi non ci siamo più no non ci siamo 20 secondi e ci sono i semi quindi i campi sono molto faste ma possiamo focussare tutti quanti lo stesso pivot ma io c'ho la skill che fa fare più danni sul target accettavo che quando la skill è vado via purtroppo la bitch eh ma a me no ma che ulti che ho tirato mi ha scioltato uno di da dietro che cazzo fa? se ne ho intanto non muore è morto no ma se me lo stun è morto io non ci sono i semi da fare ragazzi capisco che siete eager per la kill minchia l'ho ucciso meglio disfarsi e nico ha dominato questa 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 che finocchio ancora non regala allucinato io non regalo mai vai vai infatti ci fai perdere i fight ogni volta perché non regali non c'è mano non c'è una cazzo adesso si non c'ho una mano non c'è una mano non c'è una mano non c'è una mano di solito non ho più niente ok Struvius se ne sta lì non ho più niente se ne sta lì in giro a... cazzo di girare ma scusate c'è rimu' di l'air becca a fare con la skill che mi porta tutto il... gesù oh oh ma do mi ci stanno ci stanno proprio ormai Muradin vede solo me Muradin oh mio dio Scarlett tornate indietro dai che abbiamo il... sei ferito dai un'occhio di gioco eh Jack lo posso prendere anche io eh volendo il terzo piglia piglia no no aspetta non ce la faccio che prendilo tu prendilo tu ma non ora si aspetta ho sbagliato ho sbagliato alla glande tu perchè in 5 secondi non ce la faccio ad arrivarci al percorso prendo io eh eh sto aspettando solamente eh vabbè però sei l'healer se lo prende Abadur forse e Abadur poi appena esce muore eh vabbè non fa niente prendilo 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 15 secondi vai prendilo io tanto tra 9 secondi lo spawniamo vado a vedere qua che stanno facendo qua si prendono un caffè ma si stanno prendendo disegno però c'è reti si solo quindi io me lo prenderei questo campo dammi una mano dammi una mano che non sei militare eh se l'iccato infatti perchè? perchè diventa invisibile prima di apcare due volte l'iccato? eh si è tornato pure la caffè e poi scoparti no monocchino monocchino come quella che le viti che si tratta per i miei ultimi non ce ne accampi che c'è il bordeaux io l'ho prontente e gli faccio un bordello di l'arriamo usciamo mid che tanto torna dietro il terror eppure che non torna vinciamo eppure dubius o donna mia c'è non è peccato ecco la parola di un gioco falliti fino a ora non ero ieri la copia di con questa torre che sta prestaggianto mi sta fottendo in una maniera guarda un pezzo patogia la popolazione sulle delle zoccole qui no non l'hanno preso sto giro no 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 Non puoi semplicemente kill Nova Perché hai lasciato un globo quando sei morto? Ecco, fatemi fare il segito sulle mine attirante E spara lì Credible Ma forse dobbiamo killare il terror loro che ha panchettato Il fiore, il fiore, il fiore Non può salvarsi già fanno via Io non c'ho mana per seguirlo Beh, ho preso Lascia a Falarde nostro Dovremmo occupare questo campo di mercenari Cala la notte, erode Quanto amo guardare il mio cervello e il fiore di pure No, dobbiamo difendere, dobbiamo difendere il botto Mangialo se puoi Tu mangialo se puoi Indigestione Indigestione Ma io faccio sicuro Io ho un problema di passaggio tra i modi Qua ci sta quella tirante proprio che dice voglio essere a mangiare Però qua sono tutti qua, sono tutti qua Bravo Tychus Bravo Tychus Nooo, che cazzo era quella? Ma che ulti cosa fa quell'ulti? Minchia madonna Ti rendi conto che Che imba combo Che teniamo le wumbo combo d'aria Non ho detto io che avevo avuto le forti Capite un cazzo Aveva metà caffice Per la cronaca Ti cazzo? Ma perchè Gule? Ma ragazzi, vinciamo se vinciamo Eh scusa abbiamo vinto ma a 30 secondi all'arrivo Ma la minchia certo Non ho visto Era per stare 6 Sf6 No non l'avevo visto Fatelo scaffa Vabbè faccio io Entra tuo scuro Faccio mille danni a hit raga Mille danni a hit Ma che cazzo volevo usciare? Vabbè Per fammi capire Vabbè abbiamo fatto Abbiamo fatto Con quel problema che non ascolto Però quel calcio dato molto ascolto Ma credo che sia grasciato il mobile Ma è FK Vabbè non è vero Non è vero Insomma è FK Sì sì no Ho visto benissimo Stavo uccidendo i Minion Sì ti offro Svevi questi tre poche però Era per te Non di giù Non di giù Infatti sono ancora là Sai che come si diverte anche lui con poche cose si diverte Pule Minion se ne va avanti e nero Ma valla ma è strano No, no, no Non me lo devi fare, non me lo devi fare Tu devi mangiare un altro Fudo omicidia, fudo omicidia Doppia uccisione La nuova è stata strovis Hello Muradin Noia, noia Bravo Continuate il chasing Continuate a cesarlo Mannaggia la marina Eh sì, ma sì Faccio 400 danni al tank 500 quando è strovato Sta finendo Vabbè c'è la nuke Va lo prendo io vai Mi fermo qui, mi prendo un caffè mentre arrivate voi Tanto il mana è una cosa sopravvalutata su st'eroe che fa di autoattacco 800 Che skill ho a fare No, sono morto Vai, ti metto il coro ragazzi Infatti, ti metto il coro, Jackson, ti metto il coro con il garden che muore avanti un funghi Tello a terra, una piantina, di taffè Ma, ti metto il coro? No, tu devi mangiare tirando Oddio manca pochissimo 5% 1% Stết Sii È morto il coro con l'esplosione del garden No, lo Vittorio Ma c'era strovato